Il Catania di Mister Raffaele, reduce da campi al societario, cerca rinforzi in attacco. Secondo i discrezioni emerse nel mirino del club siciliano ci sono Giuseppe Sarao della Regina, Nicolas Bubas, libero dalla Vibonese. L'attaccante argentino piace però anche al Bari di Auteri. Galletti che puntano forte anche sul terzino Tommaso Dorazio, accostato nelle scorse settimane all'Avellino e che si è liberato dal Cosenza. Alessandro Mastalli, centrocampista e gioiello della Juve Stabia, invece potrebbe tornare in Serie B alla Spal. Il Palermo insegue Mamadou Canuté, del Catanzaro, seconda punta senegalese classe 1993, che nella scorsa stagione ha collezionato sei reti in 26 gare giocate. Invece Giuseppe Genchi, ex attaccante del Taranto, si allena con il neopromosso Bitondo. Francesco Cernuto, difensore classe 1992, in forza alla trestina di Mauro Milanese, piace alla Paganese che punta fortemente su questo calciatore. Grazie. 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 Grazie.